buongiorno a tutti i lettori siamo qui per la rubrica quale da ex e finalmente oggi abbiamo con noi un difensore perché finora abbiamo sentito la maggior parte quasi tutti attaccanti e che difensore buongiorno a tutti grazie di questo invito come vedi porto con me la maglia storica della promozione che che mi porto con me veramente con grande con grande passione è la prima cosa che abbiamo notato che sei l'unico che si è presentato direttamente con la maglia da gioco il che è tutto un dire sui tuoi ricordi da calciatore a san benedetto e quindi dobbiamo ovviamente immaginare che sei legatissimo alla città di san benedetto e la samb poi parleremo della situazione attuale che conosci bene eh ma la prima domanda che faccio di di prassi è che fa andrea borsa oggi chi è di cosa si occupa e se ancora nel mondo del calcio sì diciamo che ho avuto la fortuna di giocare a calcio fino a 38 anni dopodiché sono subito ho avuto subito la la possibilità di di allenare per tre anni la prima squadra a grotta ferrata quindi gestivo eh la scuola calcio e per dieci anni sono stato a grotta ferrata una società importante e quindi gestivo la la prima squadra e l'agonistica poi dopo tre anni ho iniziato a a a conoscere il il campo quello di il mondo dei bambini e da lì praticamente mi hanno mi hanno rapito perché sono stato veramente innamorato mi sono innamorato subito dei bambini adesso gestisco a frascati alla lupa frascati una società storica dei castelli romani eh gestisco la scuola calcio e l'agonistica dove abbiamo l'eccellenza eh con una società molto importante che quest'anno è entrata in collaborazione con Roberto Muzzi perché eh abbiamo anche una società professionistica che ha che ha la stessa gestione la stessa proprietà che è l'Arezzo è una scuola che è il stesso girone della santa e attualmente sto a frascati quindi diciamo che forse mi è venuta in mente una cosa lo zampino sull'arrivo di un ex romanista come Cerci all'Arezzo è di qualcuno di voi o è arrivato no no diciamo che è arrivato a ridosso è arrivato a ridosso eh sì è un ottimo giocatore che in questo momento non sta attraversando un buon periodo un buon momento e e quindi si spera che ci sia anche da parte sua il grande eh la grande il grande la grande mano il grande aiuto per poter portare la salvezza ad Arezzo certo ma credo che le capacità della squadra ci siano tutte poi gli ultimi risultati non sono sono positivi ha vinto un paio di partite quindi cercando almeno di raggiungere eh evitare insomma le tracessione diretta quanto meno detto questo quindi ti occupi diciamo del campionato d'eccellenza sei ancora nel calcio ma ripartendo da diciamo la la tua carriera all'inizio prima dell'arrivo a San Benedetto eh spulciando un po' i vari dati eh ho visto che eh innanzitutto hai vinto un campionato primavera nel novanta o no no tantanove novanta se no esatto e tra i tuoi compagni di squadra c'erano diversi calciatori che poi sono arrivati in serie A eh muci statuto ce n'erano ce n'erano diversi e poi ho avuto la fortuna di esordire in serie A nel novantacinque in un Roma cremonese o ammo meglio cremonese Roma in campo c'erano due come Giannini ma soprattutto Francesco Totti che cosa mi dici di Totti anche perché l'avrai incrociato sicuramente non è giovanile perché è un po' più giovane di te ma ha bruciato le tappe per cui l'avrai sicuramente incrociato e giocato con lui ma io mi porto di Totti è stato detto tanto è inutile che che si può aggiungere nient'altro io posso aggiungere solamente un discorso umano un discorso che ci legava eh a livello di rapporti umani perché stavamo sempre insieme perché quell'anno eravamo eh molti romani quindi c'è stava come hai detto tu c'è stava Scarchilli c'era Petruzzi c'era Maini c'era Gappioli quindi eravamo molto legati tra di noi le sue qualità si vedevano già da allora già quando io stavo in prima squadra lui aveva 18 anni si vedevano già le qualità che aveva e poi il nel passare degli anni l'ho incrociato molte volte in diverse magari partite di beneficenza dove abbiamo giocato insieme abbiamo giocato contro c'è sempre la battuta pronta ti fa sempre ridere ma lui è un grande perché soprattutto il rapporto umano è rimasto ed è quello che è quello che si vede in televisione lui ti mette sempre a tuo agio fa sempre c'ha sempre la classica battuta del romano sempre per metterti a tuo agio e quindi ti fa sempre ridere e che dire è un campione un campione che che io mi anche lì c'ho la maglia autografata che che mi tengo con con cura e quindi ho avuto l'onore di giocare con lui e con Giannini pure sì e poi come allenatore del colui che ti ha fatto esordire se non dico stupidaggini è Mazzone che anche lui molto legato a San Benedetto o Ascoli quindi spesso lo vediamo da queste parti che ricordi hai del mister perché comunque io guardo le cose sono incredibili perché Carlo Mazzone è un maestro di vita oltre che un maestro in campo ti racconto ti racconto un aneddoto io praticamente prima di esordire in Serie A l'anno prima stavo sempre con la prima squadra partì in ritiro e dovevo andare ad Ascoli prima che veni prima di andare a San Benedetto questa non la sa nessuno perché meno male che hai cambiato strada e c'era lo sanfino del mister poi alla fine vuoi non vuoi c'era la Pistoiese che mi voleva a tutti i costi e quindi andai a Pistoia e andai via senza salutarlo ma non l'ho fatto non lo feci apposta ci mancherebbe sai quando magari di corsa vai via di preparare è passato un anno l'anno dopo ritornai a a Trigoria quindi lui mi vede mi disse vieni un po qua tu ragazzi quando lui gli ho detto tutto un paurito perché lui era ed è un omone grande no che mette un po' anche soggezione ma tu pensi che io mi sono scordato quando sei andato io l'altro anno mi sono scordato di salutarmi questa sembra una piccolezza ma questo è una per me è una cosa grande nel senso quanto lui ci teneva ai rapporti quanto lui cercava di inquadrarti una linea una linea importante di vita prima di essere giocatore di calcio certo poi di quel periodo mi dicevi di un ricordo particolare al Bernabeu prima ovviamente parliamo sempre il periodo antecedente al tuo arrivo alla samba ancora e avuto la fortuna di giocare al Bernabeu dieci minuti perché quell'anno lì davanti a 95 mila persone ci fu l'addio del buitre e quindi invito la roma perché all'epoca c'era una balba e fonseca che erano molto amici di debuttare con la storia del real madrid con tutti i giocatori del real madrid con buio camacho cordiglio fugo sanchez e luise ricche ierro c'era cruis c'era c'è tu praticamente eri immobile però auto la poi la fortuna la tenacia di anche lì di scambiarmi la maglia di avere la maglia storica del del real madrid quindi la concerti anche quella invece il padre di daniele de rossi non c'era ancora vero nel o c'era nel staff della ok bene fatto questo preambolo diciamo sulla tua carriera prima dell'arrivo a san benedetto andiamo in tempi più recenti tra virgolette perché parliamo sempre di parecchi anni fa sei arrivato a san benedetto dopo quattro stagioni di c1 quindi 94 partite in c1 c'è un calciatore ormai diciamo affermato e di categoria e se è arrivato in serie d quindi hai fatto un doppio salto all'indietro quando gaucci ti ha proposto che veniva dal intervese di arrivare di venire alla sample la conoscevi la realtà di san benedetto oppure no la sala poco devo dire la verità conoscevo poco e quando stavamo con lu gaucci quell'anno lì che perdemo i playoff per andare in serie b lui si era stufato di tenere la vita il bese quindi ha avuto la possibilità e le occasioni di prendere la san benedettese che poi ci siamo accorti giorno dopo giorno che veramente era una società che con quelle categorie là non c'era come niente a che fa e poi solo le le cose ti appassionano se le vivi quindi vivendole hai capito eh cosa significa essere un giocatore della samba cosa significa san benedetto e quindi io sono stato fortunato che ci ho giocato anche se all'inizio sai dalla c1 in serie d però quell'anno lì venimo un bel po di giocatori importanti quindi la diciamo che le premesse per far bene c'erano certo sì era una squadra molto importante ci fu la vittoria del campionato e eh la promozione in in c2 e lì le cose andarono in maniera veramente straordinaria perché la squadra fece una rimonta incredibile grazie soprattutto all'arrivo di di colantuono che da calciatore divenne allenatore già da allora si percepiva la la stoffa del mister come come allenatore come come andarono le cose in quel cambio perché eh gauci quell'anno della c2 per fare il salto di categoria c'erano tre squadre quindi c'era il catania c'era la san minettese e c'era il perugia quindi all'inizio non era non è stato così facile perché io all'inizio stavo mi misero fuori perché volevano dar priorità ai giocatori loro che magari venivano da categorie più importanti quindi c'erano altri allenatori prima della dell'avvenimento di colantuono nel momento in cui nel momento in cui le cose stavano andando stavamo precipitando perché stavamo nella zona play out non so se si si e praticamente gauci alessandro si gioca l'ultima carta quella di stefano colantuono che al finiva veniva da dal dall'essere giocatore per dargli la possibilità di colantuono e io mi ricordo che partimmo partì tutto da Imola andammo a Imola e colantuono fece una cosa che 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 praticamente avrei fatto anche avrei fatto anche io quello di rimettere in campo la vecchia guardia giocatori che che avevano giocato con lui precedentemente che venivamo dalla dalla vittura del campionato e quando ammise la vecchia guardia da lì iniziamo veramente una grande rimonta eh sì 10 partite consecutive e lui ogni partita che faceva tanto ragazzi io l'allenatore non vorrò mai farlo poi lo stramaggio no più diceva e più vincevamo più diceva e più vincevamo per me era costretto a dirlo ma diceva io non lo voglio fare l'allenatore lo voglio fare e poi è diventato un grande allenatore e quindi c'è stata quella rimonta che poi io due giorni fa mi sono rivisto il video della partita col Brescello mi sono rivisto la partita della finale cioè il brividi senza parole sì sì ho visto anche il tuo post relativamente alla situazione attuale di cui parliamo tra poco e da lì ti ho contattato perché mi sembrava interessante sentire la tua e quindi poi dal diciamo dalla dalla rimonta incredibile c'è stata la finale di Parma che sicuramente ricorderà ha giocato a titolare quella quella partita e fu una partita di sofferenza però alla fine andò andò bene perché se in difesa avete ballato parecchio quella quella meno male stefano visi però anche voi ci avete messo del vostro fu veramente una partita dura quella di però che rapporto vedi con gaucci che padre e figlio luciano col era un buon rapporto di stima di rispetto chiaro che anche con lui non era non era facile andare avanti e portare avanti dei rapporti c'ho degli aneddoti mi ricordo col col mister che c'era se non so se ti ricordi quando lui arrivò c'era donatelli allenatore all'inizio sì sì donatelli praticamente era stato il primo allenatore esonerato da gaucci in primavera del perugia in una partita lui in una partita lui sai come era fatto no voleva a volte mettere bocca dei cambi e il mister fece totalmente l'opposto da lì il vulcano gaucci da liquida quella partita che facciamo zero a zero come pare con la città onovese si all'inizio del campionato il campionato via tutti e fece proprio tabula rasa e da lì abbiamo capito subito che si scherzasse si va a scherzare poco ma più che altro con gaucci è sempre stata una persona che ti ha fatto sempre stare bene quindi e uno parla e dice si ti manda sempre ritiro sempre ritiro però ti faceva stare bene perché a volte spesso metteva dei premi che nessun altro presidente ti metteva e quindi a volte non è che ti fanno vincere le partite mettendo dei premi è assolutamente no però però era un generoso e quindi io penso che lui a si ammetto gli ha dato molte molte soddisfazioni ecco sì è peccato per come è finita magari lì sono ci sono sono sopravenute altre questioni e c'è sempre il rimpianto della del mancato arrivo in serie b perché forse con gaucci ci si sarebbe potuti arrivare davvero però purtroppo è andata così e poi questa è una domanda che ti voglio fare perché non sono fincente adesso questo non me lo ricordo perché ci fu la cessione poi alla terza stagione cioè fu una tua volontà dopo due stagioni oppure cambiarono gli interpreti cambiarono le priorità non lo so questo non me lo ricordo se devo essere sincero io da San Benedetto non sarei mai andato mai sarebbe uno folle andar via da San Benedetto dopo due anni dopo due anni vinti due anni da protagonista andare via da San Benedetto purtroppo il calcio ti porta a delle scelte che non sono state dettate da me sono state dettate da altre persone e quindi ci ho avuto un grande rammarico perché San Benedetto è questa 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 qui che mi porta dentro quindi ma tanto la c1 avresti potuto farla tranquillamente non c'erano dubbi l'avevi fatto già in passato quindi diverse stagioni per quello non c'erano dubbi l'avevi l'avevi sudata te l'avevi veramente stato tanto sacrificio in campo fuori perché poi fare il giocatore bisogna essere prima di tutti atleti quindi un grande sacrificio ti ha ricostruito un'identità a San Benedetto che ti rispettavano ma a parte delle qualità tecniche ma per quello che tu dà in campo e quindi è stato veramente una bella batosta mi sembra di capire che non è stata una tua scelta dai no assolutamente mi sembra evidente purtroppo è andata così anche questa non possiamo tornare indietro ascolta tu con i tuoi compagni di squadra ti senti ancora qualcuno di quei due anni di Samba? sì sì io per Manelli mi sento con Pasquale di Serafino intanto ci sono salutato con Visi con Facebook poi c'è Totò Criniti che anche lui mette ci salutiamo diciamo che i social ti aiutano ti aiutano a tenere i rapporti a mantenere quella linea di unione che ci ha legato e ci ha portato poi alla vittoria dei due campionati di fila e adesso conclusa la parentesi del passato andiamo al presente che è una nota molto dolente io la prima domanda che ti faccio è se essendo una persona che comunque è nel mondo del calcio e quindi indirettamente anche nel girone della Samba perché seguendo le vicende dell'Arezzo avrai seguito la Samba se già dai mesi precedenti avevi intuito che qualcosa a San Benedetto soprattutto dopo la cacciata chiamiamola così di Colantono potesse andare come purtroppo sta andando ti era capitato di... cioè avevi capito che qualcosa di strano io credo che chi sta nel mondo del calcio da tanti anni a volte le sensazioni si percepiscono non per forza se devi stare dentro la situazione ma anche dal di fuori dalle dinamiche che sono successe perché ti dico questo? perché nel momento in cui Stefano Colantono sapendo quello che lui tiene, quello che ha, che prova per San Benedetto va via in un momento importante della stagione di San Benedetto dove stavamo zona playoff e dove io mi ricordo le interviste di Stefano che diceva adesso prenderemo due o tre pezzi per cercare di arrivare e puntare alla Serie B e tu Presidente mi vieni a dire non ti vedo più ecco ti qua ecco ti aspettami ti stavo dicendo le dinamiche del fatto di dell'esonero di Coltuono io lì avevo percepito qualche cosa perché non puoi mandare via un direttore allenatore, giocatore della San Benedetto che sa di tutto e di più della piazza e sa che tu invece di ascoltarlo vai allo scontro lì sinceramente ho percepito che c'era qualche cosa che non andava e poi col tempo mi hanno dato ragioni diciamo che la spiegazione ufficiale era una diversità di vedute non si è ben capito su cosa perché la risposta è diversità di vedute un lavoro per la stessa società tua quindi voglio dire io credo che queste sono le cose che poi uno lascia il tempo che trova se vuoi farle passare le fai passare però siamo grandi e vaccinati e poi se vogliamo credere crediamoci però io se devi dar fiducia a una persona devi dar fiducia soprattutto ma poi stai in una zona di classifica alta però sì anche perché poi oltre a Colantuono che tra l'altro aveva cinque anni di contratto quindi comunque qualcosa credo che avesse avuto come assicurazione o programmi c'è stato pure Zinonelli che si è dimesso quindi lì forse è stato il primo passaggio a voto della gestione di Serafino che poi adesso è in una situazione pressoché disastrosa tu hai che impressione hai cioè o meglio che speranze hai mancano 17 giorni se ti dici alla fine della messa in mora quindi i giocatori potrebbero svincolarsi e la Samba potrebbe essere radiata cioè siamo a questi livelli cosa ti auguri cosa speri mi auguro speriamo che si riesca a risolvere speriamo che il presidente riesca a trovare una soluzione perché poi alla fine dipende dal presidente la voglia a noi augurarci ma dipende da lui quindi è inutile fare proclami qua bisogna veramente mettere mano al portafoglio bisogna veramente cercare di fare i fatti perché le parole se ne sono state dette tante le proclami se ne sono stati detti tanti e a Sam Netto non merita questo Sam Netto devi essere una persona corretta una persona vera anche se nelle difficoltà se tu le avevi secondo me le avessi esternate fin dall'inizio di una stagione dove ci si doveva salvare secondo me poi se l'apprezzavano di più invece di fare i proclami che proclami che poi la tante non arrivi da nessuna parte anzi ti dai ti dai la zappa sui piedi e questa è la dimostrazione di una persona che secondo me è poco esperta nel mondo del calcio sì forse ha fatto il passo più lungo della gamba non lo so adesso non è il momento di capire le motivazioni ma sarebbe il momento di trovare le soluzioni tanto adesso è inutile stare a parlare di quello che è stato purtroppo credo che non ci sia tantissimo tempo a sufficienza per muoversi quindi è un po' complicata da risolvere sul campo adesso stacchiamo un attimo sul campo invece la Sam come l'avevi vista? cioè come squadra parlando di calcio la squadra è una squadra che ha dimostrato individualità molto importanti certo secondo me abbiamo preso molti gol secondo me in fase difensiva secondo me bisogna bisogna migliorarla perché adesso difendere non è più come prima prima ci si difendeva con maggior più cattiveglie diciamo così io parlo da difensore adesso vedo molti difensori molto più sciolti più tranquilli più che danno più spazio all'avversario e quindi danno la possibilità poi di fatti mettere in difficoltà però voglio dire dell'insieme con giocatori come Maxi Lopez che all'inizio voglio dire è un giocatore che è stato che ha fatto tanti anni la Serie A c'erano tutte le premesse per arrivare però adesso i giocatori devono devono capire che adesso deve andare avanti la persona deve andare avanti l'uomo non il giocatore e devono avere rispetto per questa maglia devono avere rispetto per la piazza perché questa è una piazza che si vive giornalmente ogni giorno l'asamone del tesi e io sono sempre dell'idea che le società per come la vedo io devono sempre avere delle persone che hanno vissuto l'appartenenza della squadra dove hanno giocato perché secondo me trasmettere quello che tu hai vissuto e far capire l'importanza di questa maglia secondo me è solamente che ne giova poi la squadra infatti Stefano Visti Stefano Colantuono c'erano tutte le premesse per far sì che questo poteva succedere esatto purtroppo in questo momento la squadra è sostanzialmente abbandonata a se stessa c'è Stefano Visti nello staff però non credo che possa fare purtroppo granché detto questo ci avviamo verso la conclusione Andrea io nel ringraziarti dell'estrema disponibilità che ho avuto per l'intervista ti chiedo se vuoi fare un saluto ai tifosi della Samb sperando che le cose evolvano per il meglio e chiedendoti anche se ti è capitato di tornare a San Benedetto nel passato allo stadio come semplice tifoso oppure come addetto ai lavori diciamo io tre anni fa andavo a San Benedetto perché stavo facendo un torneo io stavo in una società stavo a Grottaferata quindi giocai e poi c'era anche qualche tifoso che lo sa che mi vennero a trovare e quindi ci ho avuto sempre i brividi quando stavo a San Benedetto e quindi e questi brividi assolutamente li voglio ripercorrere perché voglio adesso mi sono sentito anche con Pasquale Serafino vorrei venire quest'estate covid permettendo che dire lavorare con la San Benedetto sarebbe un sogno perché lavorare con la squadra del cuore penso che non ci stanno uguali non ci stanno proprio paragoni con nessun'altra squadra ti devo dire una cosa quello che mi ha colpito di te è che due cose tu parli di noi come se fossi un tifoso davvero o comunque un appartenente alla Samba e credo che non sia da tutti e nonostante che lavori per una squadra diciamo non per l'Arezzo direttamente ma comunque per una proprietà che è coinvolta nel girone della Samba quindi da questo si percepisce quanto nonostante la tua professione tu sia davvero legato alla Samba quindi non è cosa da tutti ho visto poi il tuo post su Facebook dove hai parlato di squadra del cuore nonostante tu sia di Roma e a San Meto hai giocato se vogliamo solo due anni alla fine eppure a volte non è il numero degli anni che magari ti puoi sentire addosso su una piazza su un posto è quello che hai dimostrato è quello che hai sentito da parte della gente è quello che tu hai vissuto io quando mettevo la maglia della Samba davo tutto lo sai perché perché vedevo tutti i tifosi che ci venivano al seguito e quando mi mettevo la maglia giocavo per loro quindi è come se l'avesse messa un tifoso e quindi per quello io ho sempre dato tutto fino all'ultimo fino all'ultimo allenamento e quindi quando dico noi è perché lo dico veramente lo dico col cuore perché adesso la cosa che viene a mancare che è venuta a mancare è la passione e l'amore per quello che uno fa a volte girano troppi soldi si pensa tutto in base ai soldi però poi alla fine i soldi non ti portano da nessuna parte preferisco magari guadagnare di meno però avere dopo vent'anni una intervista come questa dove ci si ricorda e mi si ricorda ancora di me in due anni quindi non c'ha valore non ci stanno soldi che ti possano riempire le tasche ma non sono sicuramente l'unico che si ricorda perché a San Benetto il tuo nome comunque è legato alla piazza e ai tifosi detto ciò ti ringrazio di nuovo sperando che le cose si concludano in maniera positiva ormai è un countdown siamo sostanzialmente in mano forse a quello che può fare l'amministrazione comunale in un presunto incontro che dovrebbe esserci nei prossimi giorni speriamo che non venga rimandato non ho grandissime speranze però magari non lo so anche con questa intervista con il tuo aiuto con le voci di chi ha vestito davvero la maglia della Samba si può sensibilizzare il presidente a fare quello riesca a uscirne fuori per il bene di tutta la città perché lui c'ha una grande responsabilità ci sono molti tifosi che in questo momento stanno male anche io da Roma sto male perché vedo da qui quello che sta succedendo quindi lui deve capire l'importanza di questa maglia che è stata indossata ma soprattutto dei tifosi perché sono loro gli artefici i presidenti passano i giocatori passano ma i tifosi rimarranno sempre e quindi i tifosi vivono certamente quello che mi auguro è che anche anche in grazie a questa intervista grazie a chi ha vestito la maniera Samba i calciatori della Samba non facciano l'errore di non presentarsi qualora il presidente non versi quello che devono cioè finire radiati sarebbe veramente un'umiliazione mi auguro che se arrivi alla fine del campionato poi magari speriamo di no però le cose potrebbero prendere una piega negativa ma quando meno di finire il campionato con tutti i limiti del caso spero che se dovessero scadere i termini della messa in mora i calciatori non facciano l'errore di dire bene ormai siamo svingolati e ce ne andiamo penso che un allenatore come il Montero un giocatore come Maxi Lopez che hanno giocato hanno calcato campi importanti in questo momento giocatori come loro devono solamente che trainare la squadra fino alla fine perché dipende anche da loro secondo me esatto bravo dipende anche da loro dimostrazione è la salvezza della Samba del 2006 con una società fallita praticamente una situazione analoga nonostante tutto la Samba si salvò poi andarono male le cose comunque però in realtà almeno l'onore la voglia di finire il campionato dovrebbe esserci proprio grazie anche a chi come te ha vestito la maglia della Samba e la porta addosso detto questo ti ringrazio e speriamo di nuovo che le cose vadano per il meglio grazie mille Andrea grazie a tutti io sicuramente farò il tifo da Roma e sempre forza Samba ciao ciao grazie ciao